Alla mie spalle l'entrata dell'appartamento del Doge, 12 sale che in questo periodo sono state visitate, affollate da tutti quei visitatori che hanno trovato in questo percorso la possibilità, l'opportunità di conoscere la storia della Serenissima e soprattutto di entrare nel vivo del ruolo e degli oneri e onori che erano assegnati al Doge. Doge di Venezia, massima carica della Serenissima. Un successo che non era scontato, una sfida che Fondazione Musei Civici ha raccolto e che ha messo in atto, ponendo all'attenzione di questi visitatori, opere che erano fino a quel momento conservate nei nostri depositi. Quindi non solo un capitolo di approfondimento, un'opportunità per chi visita Palazzo Ducale e che naturalmente può adesso comprendere meglio cosa accadeva in questo meraviglioso luogo, ma soprattutto può conoscere opere che erano conservate nei nostri ricchi depositi. Un grazie, permettetemelo, a Daniele Danza, Valeria Caffà, Elena Marchetti che assieme a me hanno costruito questo fantastico layout. Il modo in cui veniva eletto il Serenissimo Doge di Venezia fu ideato nel Medioevo, nel XII secolo, meglio precisato in forma pressoché definitiva nel secolo successivo, il XIII. Da allora fino alla fine della Serenissima Repubblica rimase invariato. Si tratta di un sistema elettorale complicatissimo volto a scongiurare eventuali brogli, maneggi, corruzioni. Si doveva, sostanzialmente, scegliere 41 nobili uomini, a cui il maggior consiglio, la massima e più importante assemblea politica veneziana, delegava il compito di individuare la persona più idonea a ricoprire tale carica. Questi 41, una volta eletti, venivano chiusi in conclave all'interno di Palazzo Ducale. Alcune sale erano adibite all'uopo, il senato, il collegio, l'anticollegio, la chiesetta e l'antichiesetta. E questi 41 non potevano uscire da questo conclave se non dopo aver nominato il nuovo doge. In che modo venivano individuati questi 41 nobili uomini? Ecco, con un sistema complicatissimo. Dicevamo che noi abbiamo cercato di spiegare qui, all'interno del nuovo allestimento dell'appaltamento Ducale. E lo abbiamo fatto attraverso dipinti, incisioni e soprattutto lo schema che vedete alle mie spalle, che è tratto da un'incisione seicentesca. Riunito il maggior consiglio, un'assemblea che contava più di mille persone, il numero varia a seconda dei secoli, a ciascuno di questi membri veniva consegnata una pallina, in veneziano una balotta, da cui poi il termine ballottaggio che è entrato in uso nella lingua italiana. Ballottaggio e broglio derivano dal complesso procedimento delle elezioni del doge. Il ballottaggio deriva in particolare dal termine balotta, con cui si indicava una piccola pallina prima in rame, poi in terracotta e infine in panno, che si usava per esprimere il voto. Invece broglio corrisponde al luogo. Nel Veneto del tempo, broglio era il brolo, il giardino, l'orto. È lo spazio in cui gli elettori si riunivano per discutere, prendere accordi, anche segreti, per fare compravendite non lecite dei voti. E da qui viene riportato nel nostro linguaggio comune. Come mai questi termini sono entrati nel nostro uso quotidiano, specialmente appunto nelle elezioni. Perché al nascere delle nuove repubbliche, quella americana in particolare, quella francese, la Repubblica di Venezia era la più longeva e quella più complessa, più sofisticata. E da qui dunque sono state prese le regole base anche per le elezioni delle nuove repubbliche. 30 di queste palline però erano dorate. I 30 nobili uomini che ricevevano la pallina dorata venivano poi ridotti a 9 tramite sorteggio. Ai 9 veniva chiesto di indicare 40 nobili uomini. Il primo dei 9 ne indicava 5, il secondo 5, il terzo 5, il quarto 5 e gli altri 4 ciascuno. Questi 40 poi, sempre tramite solteggio, venivano ridotti a 12. I 12 ne dovevano nominare 25. Questi 25 venivano tramite solteggio ridotti a 9. I 9 ne nominavano 45 e di questi 45 ne rimanevano 11, sempre tramite solteggio. Ecco finalmente che questi 11 nobili uomini potevano indicare quei 41 a cui sarebbe aspettato il compito di nominare il nuovo doge di Venezia. I 41 venivano chiusi in conclave e non potevano uscire fino a quando non avevano nominato il nuovo doge. Non potevano avere contatti con l'esterno. Sappiamo che certi conclavi ebbero vita breve, durarono un giorno, ma altri invece si protrassero per un mese e furono conclavi anche molto combattuti. Una fonte dell'epoca ci dice che erano un inferno di diavolerie dove le fazioni si dividevano, combattevano, si minacciavano financo di morte. Fin dalle sue origini Venezia attribuiva grande importanza alle festività e la Repubblica dava grande pompa e solennità alle manifestazioni che si celebravano ogni anno come processioni, cortei, cerimonie. Era un momento speciale, quello in cui il doge usciva dal palazzo, andava incontro al popolo, costruendo una sorta di coreografia festosa e solenne a cui tutti partecipavano. La città diventava come un grande palcoscenico e tutti erano gli attori. E poi c'era una festa speciale, unica al mondo, la festa della Senza. Senza in veneziano significa ascensione. Nel calendario liturgico cade 40 giorni dopo la Pasqua, ma a Venezia aveva un significato del tutto particolare. Infatti in questo giorno si celebravano le nozze del doge con il mare. Era una sorta di matrimonio mistico. Il doge lanciava un anello nuziale nelle acque per celebrare la propria alleanza e il proprio dominio sui mari. Questa era una tradizione che si dice risalisse da un lato alla fortunata spedizione in Dalmazia del doge Pietro II Orseolo ancora nel giorno dell'ascensione dell'anno 1000. Si dice anche che fu uno dei privilegi attribuiti da Alessandro III, dal Papa, un ringraziamento del contributo dei veneziani per la pace di Venezia, ma sicuramente non vi sono estranei anche antichi rituali pagani propiziatori. E se c'è ancora un significato attuale in questa festa che possiamo trattenere è proprio nell'alta fortissima valenza simbolica del gesto delle nozze con il mare, che significava certo il dominio sui mari, sul mar Mediterraneo, sul mare Adriatico, ma che andava anche a rinnovare ogni anno quell'alleanza che fu all'origine del miracolo Venezia. Quell'alleanza che diede il coraggio ai primi fondatori di immaginare una città di pietra su una superficie di acqua e fango. Il coraggio di concepire un'urbanistica basata sul flusso e sul reflusso delle maree. E proprio questo possiamo conservare forse di questo antico rito. La consapevolezza che Venezia ancora oggi tutti i giorni custodisce e difende quel rapporto speciale con l'ambiente dove è nata. Cosa succedeva in questa giornata? Il doge come viene descritto nelle acqueforti magnifiche della serie delle feste dogali incise da Brustolon su disegno di canaletto che esponiamo su questa parete. In particolare in questa acquaforte, in Die Ascensionis, si vede come il doge uscisse da Palazzo Ducale e salisse sul buscintoro che era ormeggiato sul molo di Palazzo Ducale, all'interno del contesto meraviglioso del bacino di San Marco, tra un'altra quantità di barche addobbate a festa. Il bucintoro era una nave di gala, da parata. Non era fatta per navigare, infatti navigava per lo più un giorno solo all'anno, il giorno della senza. Ogni epoca ebbe proprio bucintoro, ma quello più famoso, più noto, fu proprio l'ultimo, quello settecentesco. Il modello che esponiamo in questa sala è basato su quello. Fu costruito negli anni 20 del Settecento e ornato dal famoso scultore Antonio Corradini. Al piano inferiore sedevano i rematori, mentre al piano superiore si accomodavano, prendevano posto il doge e tutti i propri dignitari. Una elegante polena a prua rappresentava in modo allegorico Venezia come giustizia. Misurava 35 metri di lunghezza e più di 7 metri di larghezza. Chiudiamo la mostra con una sala dedicata alla fine del dogado. Va detto infatti che la figura del doge è l'unica carica a vita prevista nel complesso impianto istituzionale veneziano, con conseguenze pratiche di tutto rilievo. Prima di tutto il fatto che con l'affermarsi di Venezia come potenza e la necessità anche di controllare la figura del doge, si sono scelti i doji sempre più anziani, quindi con un'aspettativa di vita ridotta e anche probabilmente con meno ambizioni personali. Se guardiamo la storia dei 120 doji, i primi sono stati per lo più uccisi, assassinati come vittime di scontri tra fazioni. Altri sono fuggiti, molto nota la vicenda di Pietro Orseolo che è diventato monaco sui Perenei ma che in realtà si mette in salvo, fugge. O anche la storia di Marin Faliero che è stato accusato di tradimento ed è stato ucciso. Ma anche la parte dei funerali è un aspetto importante, fa parte del rito proprio legato alla figura del doge. Quando il doge moriva il suo corpo veniva esposto per tre giorni al piovego e dopo seguivano le esecue ufficiali con un lungo corteo verso la basilica dei Santi Giovanni e Paolo, dove ancora oggi possiamo vedere tantissimi monumenti funebili proprio dei doji. Soprattutto nel Settecento però questa pratica è stata cambiata. Il corpo del doge infatti veniva subito consegnato ai familiari che potevano dare al doge sepoltura privata e invece per tre giorni veniva esposto un fantoccio di paglia a cui veniva apposta l'effigie funeraria del doge, delle maschere di cera che noi abbiamo proposto in mostra. Qualunque sia la sorte del doge una cosa è da ricordare. Morto un doge se ne fa un altro perché la signoria va avanti e questo concetto ha garantito la lunga storia di Venezia. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!